È fortemente voluto anche perché dobbiamo superare questo scoglio di queste persone che stanno in difficoltà e farle sentire più che mai oggi persone che possono avere la possibilità di avere tutto a disposizione. Ci tengo a precisare che questo sportello è soprattutto uno sportello di ascolto sociale per loro e di pratiche burocratiche da risolvere. Io come assessore ce la metterò tutta perché queste persone abbiano sempre il meglio e abbiano una vita congrua come la nostra. Lo sportello è per tutti, per tutti coloro che hanno dei problemi, delle difficoltà. Oggi questa disabilità con questo sportello è propositiva per cui la negatività diventa positività e questo è anche un bene per l'amministrazione. Loro hanno una grossa voglia di fare, l'unica cosa è trovare il binario giusto e quindi questo sportello può essere di auspicio per far sì che questa strada si possa percorrere.